Sembrava un falso allarme e invece era tutto vero. Un cinquantenne ha tentato il suicidio per amore per la seconda volta, ma è stato salvato in extremis dai carabinieri. L'allarme è scattato da una telefonata al 118, dove l'interlocutore con voce fioco ha farfugliato dell'esistenza di un impiccato a Fossombrone. Ma per le poche indicazioni ricevute, i sanitari hanno avvisato al 112 e i militari hanno subito avviato un'attività di indagine. Ricordavano infatti di una giovane donna che di recente si era recata in caserma, lamentando molestie da parte del suo ex. Aveva raccontato di aver conosciuto un uomo molto più grande di lei, con il quale aveva convissuto per più di cinque anni, ma la relazione si era interrotta a causa dei continui tradimenti di lui. L'uomo non rassegnato aveva iniziato a tempestare la donna di telefonate, messaggi e post nei social network dal contenuto delirante. Il cinquantenne inoltre era già conosciuto dai carabinieri, perché dopo essersi separato dalla prima moglie, anche in quel caso per i continui tradimenti di lui, prima aveva molestato telefonicamente la ex e poi aveva tentato il suicidio impeccandosi con la cintura dell'accappatoio. Messe insieme le informazioni, i carabinieri sono corsi verso la casa dell'uomo, al campanello, non rispondeva nessuno e la porta era sbarrata, ma i militari hanno deciso di aprirla spallate. Giunti all'interno lo hanno trovato impiccato nella camera da letto con la cintura di un accappatoio, ma lui era ancora vivo. Immediatamente un militare lo ha sollevato di peso, mentre l'altro, salito sulla scala, ha sciolto il nodo dal collo del cinquantenne. Una volta liberato, non cosciente, è stato effettuato un massaggio cardiaco nel tentativo di rianimarlo. Dopo le prime cure del personale sanitario giunto sul posto, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Urbino, per poi essere ricoverato nel reparto di psichiatria al Santa Croce di Fano. Per i militari resta la gioia di aver salvato la vita a una persona, emozione, che nessuna brillante operazione di servizio potrà mai dare.